Notte prima degli scami, notte di polizia Torniamo a casa in carro a terzi Sì, è sì, io vissi! È l'avereci Sì, è l'avereci Sì, è l'avereci Siamo pronti! Finalmente qualcuno è venuto con me per l'exam. Finalmente, le persone econo fareanno l'exam. Siamo pronti! Quindi, questo è l'epoca! Questa è l'exam per l'exam. Questa è l'exam per l'exam. 103 persone saranno in l'exam. Questa è l'exam. Questa è l'exam per l'exam per l'exam. I'm going to eat and just put my fly. Day 5 di l'exam. È 7.45 am. Abbiamo l'exam per l'exam. Quindi oggi è il mio miglior giorno. Abbiamo 6 ore 15 di l'exam. Vi sono finito con la filosofia! Cosa è la vita adesso? Solo ho fatto l'exam per l'exam per l'exam per l'exam. E ora ho fatto l'exam per l'exam per un'ora. Abbiamo due libri di filosofia. E siamo finiti! Questo è l'ultimo del nostro corso di filosofia. È incredibile! È bello di essere fatto, ma è veramente un po' di più. Questo è un po' di più. È proprio un po' di più. L'exam per l'exam. Ma ora ho? Ma è tutto bene. È stato un po' di più. È ancora un po' di più. Ma non c'è una cosa. Ma non c'è un po' di più. Ma non c'è un po' di più. Ma non c'è una cosa. Sogno Per bollare Hello People So hello guys, today we have 3 friends One is our Night butterfly, I don't know how to call it in English We have our Friend here And our second friend here So one of them was One of the greatest leaders of the past century He's called Zuhand Rahim The only one is a Bangladeshi guy That just came like randomly here Like something like Lenin or white, we don't know Welcome back to this body Hi guys, yeah party Hi mom, so I've been back at home Chilling, just you know He's so cute, look at this He's my roomie, yeah, I think it's great to be back You know, I've missed everyone, I've missed my beautiful roommate I've missed Eleanor like, started school And it's really great to be back I can't wait to give my exams alone So anyway, what happened this week bro Like you came back and this was the biggest event of the week No maths papers, who cares about maths Anyway, we had exams It was shitty, nah, it was amazing I'm really enjoying this week, except I'm studying Like, so yeah, guys, there's really little to say We just said a lot Eleanor spent like half of her day Sitting, her ass must be like blue or something I spent 8 hours in the exam hall on Friday I've been watching Revision videos at double speed Hoping to learn everything Double speed Follow me on Instagram, zuon underscore 21 Tommy's judging us over there Tommy's always judging me Anyway, Tito we love you, we saw your music video You're freaking cool man So anyway guys, this has been our last weeks here Freaking crazy We're doing exams and it's freaking crazy I still can't believe that I'm actually done with maths and German I'm done with math, philosophy, geography I'm never gonna do German literature in my whole life I promise, never again in my life I'm gonna do German literature, never I promise here, in front of everyone If I fail, I'm gonna take Italian It's a self-close Fratello I learned that today and I've been saying it There's a good reason why Zuan is learning Italian Other than that, you know, I can't believe That we only have like one month left To make the most of it And I guess that's it See you guys!